Se ti dico di no e no, asciughi sempre mio nonno Vado a scuola nel sonno, imparo tutto da un sogno Gipsy, oro, tu bronzo, arrivo tu dici onno Piscia sopra il tuo mondo, torna a casa più biondo Tony Jamil, quale gang, non ho voglia del tuo disco rap Nel prevedere a mia discoteca, Gipsy, amici, queste silhouette Sul Q3, alle tre, papi fiore che nel flex a tre Chi ci guarda e dice pensa a te, non guardare c'è ma pensa a te Non ho voglia, sono stanco, io comando, non lo faccio Sono pigro, sono fatto, perché mi fumo non accanto Cosa ho visto, cosa ho fatto, non fanno di me un bambino Se entri al campo e ne esci intatto, vatti a comprare un santino Mi padre comanda la zona, è come il re leone, mi lascerà tutto Tu invece che sei una carrogna, è sicuro, fa un figliottino, c'era brutto Nove anni è come rappo, Gipsy che porta rispetto Gipsy, c'è questo ghetto, tu fai bravo, siete detto A scuola non ci vado, forse non hai capito Sono il prossimo capo, forse non hai capito Gipsy, Gipsy Gang, forse non hai capito Scuola no, studio no, fra di voi no Scuola no, studio no, fra di voi no? L'educazione siberiana, mica educazione civica. Testate matte come Giamini, volti vecchi, volti nuovi, tutti personaggi a modo, rispettati come Tony! Cicquecento come Tony, come vacca gli altri homi, sfidi Messi dopo muori, dopo fiore porti fiori. Nuovo bai da sopra un Panamera, frate tutto nero come una pantera, lei si spoglia nuda quando viene sera, guardo sempre il culo sotto la criniera. Me ne foto di chi ha più seguaci, non mi piace, non mi piacerai. Balenciaga, Balenciaga, mi guardo i piedi, vedo solo Nike Vai da un classico, non fotti mai, della serie Vita Ray Della serie Cazzo Sei, neanche un giorno con i miei Vai da Army, Gypsy, Ganga, vai da come Tommy Shelby Pichi vai dalla mia ganga, Pichi vai da una leggenda Quanti nomi sull'agenda, io nemici si li colleziono Porto a casa un'altra agenda, sto facendo il disco nuovo Quindi, casi umani, casi clinici, salvia burro per la chimica Educazione siberiana, mica educazione civica Teste mate come Jamin, volti vecchi, volti nuovi Tutti personaggi a modo, rispettati come Tony Casi umani, casi clinici, salvia burro per la chimica Educazione siberiana, mica educazione civica Teste mate come Jamin, volti vecchi, volti nuovi Tutti personaggi a modo, rispettati come Tony Mi voglio sentire qua, mannaia Tutti sanno che mangio passa, passa, tutti, tutti, tutti sanno che mangio passa Contorno, 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 contorno Ma che ore sono? Mezzogiorno e mezzo. Quando ero a scuola pensavo solo pasta. Sono in cucina, sembro uno chef. Con tonno a campore in the breath. Per la mia figa preparo un po' di pasta. Se non mangia tonno allora non mi parla. Se non mangia pizza allora non mi tocca. Anche lei lo sa che mangio solo pasta. Posso spendere diecimila euro per il tonno. Mi stanno cercando per rompermi il cuolo. Posso spendere diecimila euro per il tonno. Mi stanno cercando per rompermi il cuolo. Perché? Tutti sanno che mangio pasta, pasta. Tutti, tutti, tutti sanno che mangio pasta. Con tonno, con tonno, con tonno, con tonno. Tutti sanno che mangio pasta, pasta. Tutti, tutti, tutti sanno che mangio pasta. Con tonno, con tonno, con tonno, con tonno. Sembro italiano, mangio solo pasta. Se non è pasta allora sarà pizza. Alle mie serate, mangio solo pizza. Dopo serata, mangio solo figa. In America, mangio solo pasta. Anche in Germania, mangio solo pasta. Anche in Londra, mangio solo pasta. E allora diciamo basta. Perché va che ho messo a fare le rime. Ragazzi, ben ritrovati. Mi hanno copyrightato il video di Getting Over It con l'altra live. Quindi ho lasciato detto, ma si ma va, vangula, mettiamo le canzoni. Chi se ne frega, tanto è copyrightato a prescindere. Allora, signori. Signori. Ah, e ho aggiunto... Allora, la lavagna non l'ho presa per le live, come potrebbe sembrare. Che magari le faccio tipo Giccio Gamer, che scrivo i nomi di donatori. No, non me ne frega una sega di quello. L'ho presa perché devo registrare un video in questi giorni, domani. Perché è il video dei 5 milioni iscritti. C'entra questa lavagna, quindi la sto tenendo qua. E già che c'ero, ho scritto sta frase. Signori, siamo a... Ve lo dico adesso. Siamo a... Quanto cazzo siamo? No... 4.977.000 più o meno. 460.000. Dite a tutti di iscriversi per un motivo in particolare. Perché se arriviamo a 5 milioni entro sabato prossimo, non questo, figurati. Quello prossimo sarebbe figo far uscire lo speciale 5 milioni sabato. Sarebbe carino. Se no lo faccio uscire più avanti. Però se esce sabato è più figo. Quindi dite a tutti i vostri amici, alla nonna, di iscriversi. A tutti. Porco demonio. Se non perdo le cuffie, per i saluti prossimi. Sarebbe carino far uscire il saluto. Sennò esce quando li facciamo. Però sai, se esce proprio sabato, boom. Fighissimo. Non questo sabato che è dopo domani. Dite proprio quello prossimo. Dai. Quindi dite a tutti di iscriversi. Let's go. Iniziamo con Getting Offer. Visto che abbiamo solo due ore e mezza, per un semplice motivo. Perché l'ultima volta, non avrei mai pensato di finirlo perché è non impossibile di più. Però l'ultima volta, se vi ricordate, eravamo rimasti che eravamo... Come si chiama? The Orange Hell, più o meno. Che sta... Sta praticamente qui sotto. Sta qui sotto. Adesso non ve lo faccio vedere perché se cado è un casino. Che è più o meno a metà del gioco. Quindi in questo preciso momento siamo a metà gioco. Getting Over it è un gioco dove se cadi, cadi. Sei morto. Non sei morto ma devi... Hai finito di giocare. Quindi, che cosa ho fatto? Ci sono... Perché io per arrivare qua... Per arrivare al punto di prima... E ci metto poco. 5-10 minuti. Per salire qua ci ho messo un'ora questo pomeriggio. Maledizione. E ci sono salito in modo tale da che possiamo in questa live fare la parte successiva. Se non riesco a farlo tutto, pazienza. Se cado, perché se cado qua sotto è un casino. Se cado, ho un altro account su Steam dove ho ricomprato il gioco e sono di nuovo qui. Quindi ho una vita in più. Se cado devo switchare account, entrare sull'altro account e fare questa cagata qua. Me l'hanno prestato l'altro account, grazie a Dio. Grazie Sara, grazie Marco, grazie Undertale Love, Carlo e Sofia. Gentilissimi. Dite a tutti di iscriversi, dobbiamo arrivare a miliardi di iscriviti. No, vorrei veramente che uscisse sabato lo speciale. prossimo, quindi veramente dite a tutti di iscriversi, anche il vostro fratello, chiunque, fa la differenza. Davvero ragazzi, spacchiamo. Se no pazienza, chi se ne frega, però sarebbe veramente figo. Dai, iniziamo. Se cado da qui sotto, proprio ancora più di questo punto, posso riniziare da questo punto qua. Una volta sola. Vuol dire che se cado poi anche la seconda volta, niente, abbiamo finito di vivere. Direi che possiamo cominciare. Let's go. Eravamo rimasti qua, non mi ricordo, magari vi faccio vedere che cosa c'è, come si arriva in questo punto preciso. Ma sì, ve lo faccio vedere, aspetta un attimo. Se caricasse il video, ve lo farei vedere. Non caricarlo. Perché in realtà ho semplicemente fatto quella parte che non riuscivo a fare, che è questa. Un attimo. Che è questa qua. Questa. Cioè, io ero arrivato qua nell'ultima live, qui, qui. Poi questo in realtà è facilissimo, questo pezzo qua. E io sono semplicemente arrivato qui, qui sopra. Qua. Quindi ho fatto semplicemente quel pezzettino piccolo, piccolo. Capito? E basta, quindi non vi siete persi nulla rispetto all'altra live. Grazie Francesco che vi seguirò dalla marmotta. L'importante è che la marmotta resti. Per la marmotta iscrivetevi. Dobbiamo arrivare a miliardi, veramente, ragazzi. Se si iscrivessero tutti con un altro account, ma è una cosa brutta nuova. Quelli che sono in live adesso saremo a metà strada. Sarebbe fantastico. Andiamo avanti. Allora, Getting Over It mi ha copyrightato l'ultimo video. Quindi fantastico. Quindi sono partito con... Con 500 toni. Perché tanto mi copyrightano a prescindere. Vuoi fare un incontro in Toscana? Io ti amo. Allora, volentieri fammi finire Getting Over It. E poi ci pensiamo. Solo se finisco Getting Over It. Ciao Gaia. Io sto molto bene, ti ringrazio. Spero che stia bene anche tu. Allora. Per chi non ha seguito l'altra live, vi prego recuperatevela. Perché è impossibile questo gioco. Io non ho mangiato una sega. Perché ho dovuto fare la parte di prima di Getting Over It. Quindi non sono riuscito a mangiare niente. E quindi mangerò appena finito la live. Se Dio vuole. E niente. Mangiamo pasta con tonno, ovviamente. Non in live. Ciao Gaia. Sono molto bene, grazie. Sono un pochettino raffreddato. Ma io vivo la mia vita nel raffreddore. Ogni tanto sono... Non influenzato. Ma è raro. Proprio è raro. Io non ho ancora capito come si fa a non essere... A non cristonare quando si gioca a sta roba. Perché se non salgo qui in altre due martellate. Gesù. Porco demonio. Come si sale di sopra? Scusatemi. Grazie Firefly. Gentilissimo. Let's go. Ripeto, la lavagna non è per i donatori. Non me ne frega nulla di fare quella roba lì. Anche perché la fa già ciccio gamer. È perché dovete iscrivervi tu. E io devo arrivare là sopra. I mortacci mie. Quel cappello lì si compra da qualche parte. Già che ci siamo. Come si fa? Come fanno gli speedrunner a farlo subito? Visto che io sto riscontrando problemi. A farlo normalmente. Gesù. Non si fa. Eh vabbè. Moriamo. Basta il tonno finita male. Eh, capito. Allora. Non riesco. Porco demonio. Allora. Come avevo fatto io nei miei video? Scusatemi. Perché questa parte qua è veramente impossibile. Non riesci a darti la spinta necessaria. A meno che io non debba fare. Sì forte. No. Grazie Lavi. Gentilissimo. Sì forte è una sega perché deve essere lui forte. Non io. Devo. Devo. Come ci si arriva lì su? Scusatemi. Cioè datemi un aiuto. Dai. Come dovrebbe arrivarci? Spiegami che è altissimo. Forse devo spaccarmi di sotto così. Ce la faccio. Ce la faccio. Mi devo caricare. Mi devo caricare. Ce la faccio. Giuro. Giuro. Se mi impegno ce la faccio. Se mi dopo. Grazie Shayla. Datemi la forza. Datemi un martello nuovo. Pensate se dovessi fare questa parte che ogni volta che cado. devo riniziare dall'inizio. No perché. Vabbè. Dio mio. Cosa. Che problemi hai? Io ho seriamente. Io non ho tanto paura di non riuscire ad andare avanti. Ho più paura di riuscire a tornare tutto indietro. Perché se torno tutto indietro devo switchare account. E se lo switcho poi. E se ritorno indietro una seconda volta ce l'ho nel culetto. ci sono. Saluto tutti. E tutti i presenti si iscrivano con un secondo accanto al mio canale. Grazie. E con un terzo. E con un quarto. E con quello che volete. Mio Dio. Non esiste mondo in cui io possa vivere. Non esiste. No devo fare un respiro perché non sto capendo. Grazie Kribat. Devo morire. Grazie Ayano. Grazie Shayla Elsa Williams. Sei una tennista? Allora. Calmiamoci. 3, 2, 1. Ma perché non sono in grado di fare una cosa easy? Io lo ammazzo ve lo giuro. Vabbè ve lo disintegro. La cosa bella è che se cado qui sotto poi come risalgo? Perché sei stupido? Perché? Perché eravamo arrivati e devi tornare giù? Perché? Vai! Meno male che ho da tirato un pugno sull'altra tastiera. Perché se la tiravo su questa... La mia tastiera non la fanno più. Ed è una tastiera silenziosa della Razer. Sembra che stia facendo un placement. In realtà non me ne frega una sega. Quindi se la rompo non la posso più comprare perché non la fanno più. Anche mia zia... Anche mia nonna e mia zia ti seguono. Le puoi salutare. Grazie Tamara e Lucia che sono le zie di Sara. E fate iscrivere anche la nonna. La nonna c'è anche già iscritta posta. Allora a te non ti chiedo più niente. Voi tutti che non avete iscritta la nonna fate un account alla nonna. Iscrivete. Perché la mia vita fa schifo? Perché devo giocare a questa merda per il resto della mia vita e morire? Come si fa? Come? Ci sono anche... Grazie Giulia! Grazie di esserci... Che secondo me è importante questo. Come si chiama il tipo? Questo pelato? Non lo so ragazzi. E non è propriamente pelato. È semi pelato. Semi mastrolindo. Non lo so ragazzi. Come si chiama? Mi interessa veramente pentolaio. Pentolaio. Io vi ammazzo. Tutti. Tutti quelli che mi hanno consigliato questo gioco li ammazzo. Io non so come si fa a vivere. Perché poi tra l'altro non è che ho fatto delle prove prima. Perché ho detto micia magari cado. Quindi non provo niente. Dio mio! Dai! Allora sei stupido nella vita. Morte miracoli. Grazie Gaia. Ciao allora. Tornarei presto a Torino. E per Natale sì. Ciao Joshua. Ciao Marco. E Sofia. Allora. Buon salve a tutti quelli che sono arrivati a lei. Non devo toccare la roccia forte. Io la... Me la infilerei. Non lo sapete dove voi. A lui non gliela posso infilare perché c'ha la pentola che lo copre però. Se nella vita io avessi del culo! Perché sono stupido? No allora. Faccio un altro tentativo. Poi guardo nella speedrun come lo fanno. Perché secondo me non esiste. Che nella vita io non riesca a fare! Fatemi vedere come la fanno nella speedrun. Vi giuro voglio morire. Voglio morire adesso. Voglio morire in questo momento. Fammi vedere come la fanno nella speedrun. Vi prego iddio. Sì! Ovvio! Sì vabbè! Io mi spingo da qua. Da qui. Lui si spinge da qua. Cosa? Come? Questo è scemo. Voi siete la rovina della mia vita. Io ve lo dico. Come fai a spingerti da qui che non sai neanche salire su quella di sopra? Ma come fai a spingersi da qui? È impossibile. Ma non è possibile mai. Come fa a spingersi da lì? Io a stento ci arrivo da di sopra. Come ha fatto? Ragazzi qualcuno ha una mia... Una delle... Questa tastiera qui. E la... Non mi ricordo come si chiama. Che se la rompo ho bisogno del ricambio. Non la vendono più. Quindi per cortesia. Qualcuno mi... Ho bisogno di una tastiera. E di un salvataggio di... Se qualcuno ha un account di Steam in questo gioco. Me lo presti. Perché... Che è più avanti di me ovviamente. Perché secondo me non la passo sta parte. E invece no. Perché ce l'ho provato. Invece il mondo mi vuole male. Perché porco demonio. Non esiste che lui si tiri da qua. Come fa? Io non arrivo neanche nella roccia sopra. Subito sopra. Figurati in quella lassù. Ma perché sono stupido? Fabi puoi portare penumbra... Penumbra al necrologue. In seguito di Blackplog. Ma è una mod di amnesia. Eh. Figo. Grazie e le consiglio. Volentieri. Eh vediamo. Poi lo vediamo. Mica figata. Non sapevo sta roba. Eh. Dai che ce la fai. Sì guarda. Se ce la faccio... Nudo. Metto nudo. Allora. Se però la mia vita fa schifo. Me lo devi dire subito. Poi è tipo nei giochi di macchine. Quando curvi ti storgi. Qua è uguale. Quando mi tiro su faccio così. Come se potesse andare più sul personaggio. Perché il mondo è brutto? L'ho fatto. Non è vero. C'è il cappello di satana. Dai. C'era il cappello. Ma perché? Perché quel cappello esiste? Non è vero. Ti prenderai Jump Force. Jump Force l'ho visto ed è molto figo. Probabilmente sì. In questo gioco mi servirebbe Jump Force. Non so se l'avete colto. Raga ho bisogno di... Di un... Devi essere incazzato per riuscirci. Allora avrei già finito il gioco. Te lo assicuro. Perché il mondo non è vero? È piatto. Perché? Mi sto veramente impe... Perché poi metto il mouse proprio dritto. Cristo. Aspetta eh. Allora vai sopra. Sopra. Stai zitto e fermo e muori. Ok. Perché salti come un... Ragazzi io non ho... Non voglio più esistere in questo momento. Ci sei? Perché? Quanto dura sta parte? Ma tra l'altro è che poi se cadi non muo... Non ti devi fare tutto da zero. Sennò mi sarei ucciso. No. Vabbè. Ma vabbè. Ragazzi scrivetevi con tutti gli account che avete. Se ne avete di più su YouTube iscrivetevi. Ve prego. Dobbiamo arrivare a 5 milioni. In questa settimana per far uscire il video. Dei 5 milioni sabato. Prossimo! Se esiste il mondo però. Dovete dirmelo. Se arriviamo ai 5 milioni sabato. Il video che sto per girare. Di 5 milioni. Che mi sto spaccando per girarlo. Non avete... Sarà il video di YouTube. Meglio del rewind. No che rewind sia chissà che cosa. Perché io faccio schifo. Tra l'altro rispondo a... Esatto esatto. Il commento che sta arrivando adesso tra l'altro. L'ho detto prima. Preferisci questo o Happy Wheels? Beh Happy Wheels. Ti ho detto tutto. Mi puoi salutare? Ragazzi vi prego. Non fatemi donazioni per salutare. Perché è brutto. Ciao Tony. Ti saluto. Grazie per la donazione. Però non mi piace salutare la gente per le donazioni. Quindi non mi chiedete cose per salutare. Questo è l'ultimo. Ok? Perché non saluto. È un gesto brutto secondo me. Questa è la domanda. Elia. Bella Lore. Ti seguo dai 500.00. Numero suo. Allora facciamo così. Faccio sta parte e poi ti rispondo. Perché secondo me io spacco qualcosa. Ve lo giuro su Dio. Ma l'avevo fatta in modo easy. Tempo fa. Ce l'ho fatta. Sono forte. Non ingropparti il cappello. Via il cappello tua sorella morta. Ok. Bene. Adesso ti rispondo. Ci ho messo 20 minuti a fare questa parte. Bene. Questo merita. Iscrivetevi al canale. Tutti. Anche chiunque. Cugini. Mandate messaggi. Fate account. Bella Lore. Ti seguo dai 500 iscritti. Grazie. E non sono ancora riuscito a venerti dal vivo. Meno male. Se non ti sarei disiscritto. Ma ci riuscirò. Bene. Grazie. Cosa ne pensi dell'Hate su YouTube Rewind 2018? E qua volevo risponderti. Perché volevo rispondere anche a YouTube. Fa cagare. Che ha fatto un video oggi. Che quindi mi busta un po' di iscritti. Si spera. Che ricambierò un giorno. Qua mi devo agganciare al gancio là. Aspetta. Non mi devo agganciare al gancio. Sono stupido. Dovevo andare più direttamente sopra. Va bene tutto. Se cado qui va bene. Chi se ne frega ci muoio dentro sto buco. Basta che non cado di nuovo sotto la sinistra. Perché non ci so più risalire qua su. Dicevo. Allora. Cosa ne penso del hating di YouTube Rewind? Vi do due risposte. Allora. La prima. Mia nonna saltava di più. Però vabbè. Grazie pente. Molto gentile. Per rispondere a YouTube. Fa cagare. Che secondo me ha clickbaitato un sacco nel titolo. Ma d'altronde chi non lo fa. Quindi. Chi se ne frega. Basta che voi capiate bene. Che. Non sono ipocrita. Non so quanto questa espressione mi renda giustizia. Però ok. Fatemi fare sto salto. Scusate. Perfetto. Perché. Il video del Rewind. Io l'ho fatto. Allora. Innanzitutto io non odio Fortnite. Primo. Io odio. La community. Di Fortnite. E neanche tutta. Ma. Ma odio. Quelli che mi dicono come giocare a Fortnite. Infatti il mio video. Perché odio Fortnite. Odio. E tra virgolette. Perché se avessi scritto. Perché odio la community di Fortnite. E sarebbe stato. Meno clickbait. Niente. Quindi. Il discorso è più. Quindi io non odio Fortnite. Primo. E seconda cosa. Il Rewind. Il. Se riesco. Accendo un cero. Il mio ruolo di Fortnite. Nel Rewind. Non l'ho scelto io. Me la. Io sono andato a Londra. Per fare il Rewind. Perché mi hanno detto. Vuoi partecipare al Rewind? Cazzo sì. E quando. E quando ho partecipato al Rewind. Mi hanno detto lì. In loco. Cosa dovevo fare. E ho detto. Ruolo Fabi J. Fortnite. E ho detto. No. Non ci credo. Unico gioco che non faccio. Perché hanno chiamato me. Che ero un gamer. E mi hanno detto. E beh. Fra Fortnite. No. Però vabbè. Che dicevo. No. No. Non lo faccio. Non lo fa. Torno in Italia. Vabbè. Lo facciamo Fortnite. Primo. Perché non odio Fortnite. Due. Perché si trattava di un secondo. E vabbè. Altra cosa. Io non sapevo com'era il Rewind. Perché il Rewind di quest'anno. E adesso ci arrivo. È molto cringe. Compresa la mia scena. Tra l'altro. Ma va benissimo. Ed è il. Sì. Il video. YouTube Rewind. Questo. È il video più dislikeato di tutta YouTube. In una settimana. Record del mondo. Cheat. Del video con più dislike. Nella sto. Questo. Il video del YouTube Rewind. Dove ci sono io. Il video più dislikeato. Di tutto internet. In una settimana. Ha superato Justin Bieber. Baby. È il video con più dislike. Prima cosa che voglio dire. Non me ne frega una sega. Perché molti mi dicono. Mi dispiace dirtelo. Ma. Cioè. Non so come. Come la vedi. Come se mi potesse fregare qualcosa. Che fosse il video con più dislike. Mi dispiace un po'. Perché se fosse. Senza dislike. Sarebbe. Figo. Dai. Bella. È andato bene. Però. Allo stesso tempo. È figo che io sia nel video con più dislike. Senza averne. Diretta colpa. Perché alla fine mica l'ho fatto io il video. Cioè. Sono in una frazione di secondo. È tutto il video ad avere problemi. Non nella mia parte. La mia parte fa solo parte dei tanti cringe. Che ce ne sono di molto peggiori. Quindi. È figo poter dire. Io ho fatto il video con più dislike di YouTube. Ma la gente non è che se la prende con me. E questa cosa è. Boh. È strana. Se non riesco più a fare questa parte. Mi ammazzo. In più. Sì. Getting over it. È difficile da fare. E in più. Dovevo rispondere ai commenti. Quindi. È figo che io sia nel video con più dislike. È un achievement. Va bene. Chi se ne frega. E. Io sto facendo dei salti. Varamente. Cioè. Mi vorrei uccidere. Ripeto. Per l'unica volta. Finché siamo in tanti. Iscrivetevi tutti al canale. Se non siete iscritti. Perché. Se arriviamo a 5 milioni di iscritti. Prima di sabato. Il video. Sabato prossimo. Il video esce. Degli speciali 5 milioni. E uscirà sabato 22. Sarà il video più bello della vita. Ci abbiamo messo due settimane per registrarlo. Non l'abbiamo ancora finito. Non avete. Non potete immaginare niente. Però vabbè. E. Bello. Complimenti Favij. Sei proprio un video. Giocatore. Da anni. Si vede che lo fai. Quindi. Chi se ne frega. Dei dislike. Del rewind. Mi dispiace. Comunque. Io a prescindere. Non sapevo. Che cosa sarei andato a fare. Quando mi hanno invitato. E ne sapevo. Come era il rewind. Cioè. Io ho partecipato. Poi ho detto. Vediamo come è venuto sto rewind. Vediamo in che punto mi hanno messo. Mi hanno messo verso la fine. Non sapevo niente. Ma col senno di poi. L'avrei fatto comunque. Perché. Cavola. Comunque è un rewind. Quindi. Tanta roba. Poi sono finito. Due volte in un video di PewDiePie. Signori. Due volte. Quello di oggi. Ci sono. Adesso commento il meme. Perché mi ha fatto. Mi ha messo in un meme review. E nel video dell'altra volta. E ci ho fatto una reaction ovviamente. A riguardo che uscirà. Mi pare l'uno di. Impegniamoci per far sta parte. Ecco. Non è vero. Non è. È vero. Perfetto. Mi fatemi arrivare là su. Non è vero. Ragazzi. Io non. C'è fino a una certa stacco. Perché non mi voglio uccidere. Mi voglio. Uccidere. Io non ho. Come minchia si fa questa parte. Scusatemi. Niente. Vabbè. Comunque io non ho visto il video di. Di YouTube fa cagare. Non ho fatto in tempo a vederlo. Perché oggi ho fatto mille cose. Scusatemi. Quindi non so neanche. Che minchia ha detto nel video. Però ho letto il titolo. Ho risposto a quello. E ai commenti. E comunque. Vabbè. Tutti erano del tipo. Eh ma non hai capito. Che Favij non odia Fortnite. Ma odia la community. Vabbè. Vabbè. Chi se ne frega. Basta che arriviamo a 5 mili iscritti. E vabbè. Comunque. Il video rewind. Quindi. Cosa ne penso del rating del rewind. Ancora non l'ho spiegato. Praticamente. Il rewind. Ha avuto hating per tanti motivi. Perché cringe. Perché non hanno proprio capito bene. YouTube. Che cosa vuole la gente. Perché questo rewind. È stato fatto della serie. Diamo alla gente. Quello che la gente vuole. Tipo finire questo gioco. E. Però loro non sanno proprio bene. Che cosa. Che cosa. Che cosa vuole la gente. Quindi hanno messo. K-pop. Che c'è una parte di pubblico. Che lo adora. Ed è molto però. L'ho eterizzato. Quindi molti l'hanno odiato. Non hanno messo Piudipi. E questa cosa qua. È andata in testa a tutti quanti. Perché Piudipi versus T-Series. Sta facendo tante cose. E hanno. Porco demonio. Morto ieri. Messo. Tanti youtubers. Sconosciuti a livello globale. Tipo me. Tipo tanti altri. Tanto piccola parentesi. Nella scena di Fortnite. Che ho fatto. C'era gente. Che. Eravamo di 6. 6 o 7. 7 forse. Io non faccio Fortnite. Eppure tra tutti quelli. Ero quello che ci stava. Ci azzeccava di più. Perché gli altri. Non erano neanche gamer. Quindi vabbè. Chiusa parentesi. Per farvi capire. Cosa centro io con Fortnite. Niente. Ma gli altri. Centravano ancora di meno. P per il culo. Vabbè. Questa è sta roba qua. No. Cosa. Minchia è caduto. No. Non è vero. Non è vero. Non è vero. No. Non è vero. No. Regà. No. Vi prego. Non ci credo che. Non. Non è successo. No. Raga. Non è vero. Sto guardando il replay. Questa è la scena più bella del mio canale. Di sempre. E più bella del serpente. Vado. No. Dai. Veramente. Con un jumpscare. No. Minchia. Non me l'aspettavo. Ma. Ma l'hanno aggiornato. Non c'era sto pacco prima. L'hanno aggiornato. Non avevo. Io non avevo mai visto sto pacco. Pensavo fosse un oggetto tipo il cappello. C'era un jumpscare. Non. L'hanno aggiunto. Non c'era prima. Ma dai. Minchia. Poi sono pure. Ma va. Fanculo. Non ci credo. E' nuovo. Non c'era prima il jumpscare. No. Non ci credo. Sono caduto perfettamente nella trappola che volevano fare. No. Staparte me la rivedrò in loop per tutta la vita. No. Vi prego. Clippatela. Qualcuno la carichi sul suo canale. E dite di iscriversi. Non ci credo. Perfetto. 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 Non so come. Perché mi stavo concentrando forse. O forse perché l'ho fatto. 6.000 volte. Cioè io sono riuscito a cadere. Non ci credo. Vi giuro. Fatemi un attimo. Mi pare. La devo salvare. E' la scena più bella dei miei video. Tipo da sempre. No. Non ho visto la chat. Sarete morti da ridere. No. Vi giuro. Mi sono cagato a mano. Ma che non c'era prima. Io l'ho fatto sto gioco. Guardate il mio gameplay vecchio. Non c'era. L'hanno aggiunto. Il. Il jumpscare. Non c'era prima. Non c'era prima sto jumpscare. Porca vacca. Che cacca. E per Halloween. Ancora. Ah era per Halloween. Quello. Era un easter egg di Halloween. Beh ottimo. Visto che siamo a Natale. Cribbio. Vabbè. Eh. Mi sono perso col discorso. Non mi ricordo che cosa stavo dicendo. Voglio morire adesso. Voglio morire in questo momento. Anche perché. Io devo arrivare. Sì. Sì. Stai fermo. 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 Ok. Oh. Perfetto. Calmati. Ti prego iddio. Ora non mi ricordo come si va di là. Se devo tirarmi da qua. O devo tirarmi da questa roccia. La mia scelta è fondamentale. Perché se sbaglio roccia. Cado. Fatemi vedere dove mi devo lanciare. Per corti. No. Perché quelli. Nei speedrun si lanciano. Non si sa dove. Mi lancio da qua. Se cado. No ragazzi. Io ho sbagliato a fare sto video. Iscrivetevi tutti. Perché. Dove. Dovevo arrivare ai 5. Ma si vede la scritta. Vedo come sono organizzato. Iscrivetevi al canale. Che dobbiamo arrivare ai 5. 5 milioni. Prima di sabato prossimo. Mettila nello speciale 5 milioni. No. Perché lo speciale 5 milioni. È diverso da quello che hai pensato. Non è. Non è un classico speciale. È molto. Molto. Meglio. Il più bello. Non potrà mai fare più un video così. Perché è troppo fatto bene. Cioè. Ci ho messo troppo tempo. Un mese. Quindi non avete idea. Farà riderissimo. Vabbè. Lasciate perdere. Fatemi concentrare. Questa non è la più bella live. Che ho fatto da quando faccio live. Tra parentesi. Cioè. Ah. Scusami. Giovanni. Non ti ho risposto. Cerca su YouTube. Niente. Non ho letto. Allora. Vi leggo gli account. Scusatemi. Non ho letto i commenti. Mara. Grazie mille. Ciao Lore. Ho sei account di Google. Mi sono iscritta con tutti e sei. Grazie mille. Raga. Se avete più account. Iscrivetevi. Perché. Finalmente riesco a vedere una live. Per colpa del lavoro. Vabbè. Ma tanto rimangono salvate. Grazie Mara. Gentilissima. Davvero. Mi fai un regalo incredibile. Non per la donazione. Grazie mille. Comunque. Ma perché ti sei iscritta con tutti gli account. Fatelo tutti se avete più account in YouTube. Perché. Mi serve tantissimo per arrivare entro sabato prossimo ai 5 milioni. Grazie Giovanni. Cerca su YouTube. Riuscian. Riuscian. Push up meme. Voi vedere se ci riesci. Perché. Vabbè. Poi vediamo. Grazie. E grazie Rebecca. Sara. Ribe. No Rebecca. Ho letto. Non ti chiamavi Rebecca. Ti chiamavi Sara. Vabbè. Mi sto consolando con la live. Domani ho la verifica in inglese. Allora parlerò in inglese per te. Non è vero. Guarda PewDiePie. Che sono io che parlo in inglese. Vado. Non ci credo. Non ci voglio credere. Devo arrivare dall'altra parte. Dove minchia è l'altro. Ok. Che culo. No. Sì perfetto. Se cado devo rifarmi tutto. Non è vero. Raga devo concentrarmi tantissimo. No 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 no. No 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 no. Sì. No raga. non sono incazzato perché ho sbagliato non sono incazzato per un motivo perché ho sbagliato io ho fatto un movimento che non dovevo fare porco demonio porco sono stupido se cadevo più di sotto ero finito eravamo all'80% del gioco fatto quello ho finito cioè non è vero però quasi non sono incazzato per un motivo perché ho sbagliato io ho fatto un movimento che non dovevo fare eravamo all'80% avevo fatto tantissimo sto minchia di cappello fammelo togliere da lì perché se ricasco di no scherzavo andiamo avanti per cortesia perfetto se cadevo da lì avresti voluto essere blur in quel momento sì sì assolutamente se cadevo di sotto non sono incazzato per due motivi uno perché ho sbagliato io e so di aver sbagliato in questo gioco mi incazzo di più quando so che non sto quando so che è il gioco che mi vuole male non quando sbaglio io quando sbaglio io è colpa mia so scemo mi tiro due schiaffi a fine live non me li tiro per kickbait me li tira solo Marco Merrino grazie Sara adesso ti rispondo e due perché poteva andare molto peggio potevo cadere ancora più sotto e lì mi sarei dovuto giocare il secondo salvataggio che è l'ultimo che ho oh non ci credo ah ecco mi sembrava adesso ci riesco sempre grazie Crizia grazie Sara adesso ti leggo fammi fare sta parte che se non ci metto sei anni fammi concentrare picchia però raga un attimo vi prego fate cagare addosso voi che costi jumpscare grazie mille Marghe un attimo eh un secondo sì ecco come ho fatto prima a metterci sei anni adesso ci riesco sempre questo gioco è così quando non riesci a fare una parte poi riesci sempre c'è più o meno non ho letto cosa mi aspetta un attimo Sara mi hai fatto marire da ridere meno male che ti sei divertito sono anche preoccupata perché questo prof si chiama Geraldo Giuseppe non ho capito cosa intendi però ok nel prossimo video rewind ti metteranno una pentola con un piccone vabbè c'entra più di Fortnite sicuramente l'avrei fatto molto più volentieri tra l'altro infatti forza puoi farcela più o meno però grazie Saverio Saverio perché sono scarso no raga queste parti sono veramente difficili è dura sopravvivere incastrati dentro in un vaso eh sì iscrivetevi con tutti gli account che avete al mio canale grazie prego ciao non è vero non esisto nel mondo ma neanche salire lì sopra che è veramente da deficienti dai oh madonna raga veramente faccio vomitare vomitare secondo me io sbaglio la la direzione dai 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 perché è difficile salire lì sopra perché l'hanno fatto difficile sto gioco perché dovevo fare proprio questa roba su YouTube non potevo fare make up ragazzi io non vi giuro su Dio se non smetto ho fame tra l'altro e quando sono quando ho fame quando sono affamato mi incazzo ancora più facile doi ok stai fermo grazie prego bene molto bene vi state iscrivendo tutti con gli account grazie mille ragazzi veramente voi non avete idea di quanto questa cosa mi faccia piacere perché vorrei proprio uscire prima di Natale col video di speciale col video speciale col video di speciale 5 milioni iscritti manco l'italiano fatemi concentrare scusatemi questa parte è delicata è delicata è fin qua questo ho sbagliato nell'ultimo che vorrei evitare di rifare lo stesso errore no è troppo non è vero noi abbiamo 5 2 ore meno e io se non finisco questo gioco mi ammazzo dovrei avercela una lavagna così per scrivere cagate quando faccio i video che dite che dite vi piace come idea la posso tenere la prendo una lavagna da attaccare dietro ma non per per le live proprio per i video tipo voglio morire adesso non ci credo lo stai rifacendo ancora nonostante scrivi un casino lo sto facendo per i bene degli iscritti perché se arriviamo a 5 milioni adesso cioè 5 milioni adesso nella prossima settimana sarebbe fantastico perché vorrei far uscire il video dei dei 5 milioni in tempo no ho sbagliato scusa ho sbricciato sulla webcam perché io se riuscissi arrivare ai 5 milioni entro sabato prossimo faccio uscire il video come vlog di sabato prossimo ed è un video da paura è perché non fremo più non sto più nella non fremo più anche l'italiano parte 2 non sto più nella pelle e voglio farvi vedere quanto è bello quel video quindi solo per quel motivo lì capito uscirebbe comunque però sabato sarebbe proprio il video prossimo non questo per farlo questo sabato dovrei fare tipo 20 mila iscritti in un giorno che è impossibile manco più di pai perché non esiste modo di salire qui sopra di nuovo quella parte è veramente un casino però ho capito dove ho sbagliato prima ho capito dove ho sbagliato adesso quindi in teoria poi piglio il serpente non è non è vero ce l'ho fatta bene no molto bene piano se arrivo di sopra è fatta c'è più o meno dai 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 non fa niente ti piace l'idea della lavagna ti potevo contare i peli sulla faccia perché questa videocamera l'ho investito dei soldi perché sono tirchio solo a volte solo a volte voglio morire dai ok non è vero però sono tornato qua proprio tra l'incudine il martello forse non li merito questi 5 milioni però vabbè io vi dico solo che dopo il video speciale dei 5 milioni potrei anche smettere di fare video non è vero sto scherzando però per quanto è bello e non ce la faccio più a tenerlo segreto voglio farvelo vedere Gesù Gesù quanta forza ha quest'uomo nelle braccia tanta quanta forza ho io nel fare questo video molta di più non non ne ha tanta stavo scherzando tanti auguri per i 5 milioni in anticipo grazie Andrew Andrew last guardian grazie speriamo di arrivare i 5 milioni non si fanno gli auguri in anticipo porta sfiga dai perché non ci arrivo uno spoiler per i video speciali ragazzi non ve lo posso è un video talmente diverso da tutti i miei fa riderissimo che non posso non so come non so neanche come spoilerarvelo è veramente incredibile aspetta un attimo porca ce la vuoi fare ti auguro intanto per i 5 milioni ti auguro ti faccio gli auguri per i 5 milioni in anticipo puoi salutare mia amica si chiama tortina orca vacca gusti saluti ti saluto tortina però vi prego non mi chiedi di salutarvi nelle azioni è brutto cioè è brutto come gesto secondo me quindi ti saluto perché sei gentile ma basta ok basta donazioni per salutare gente perché vi prego è brutta come cosa ok tanto delle donazioni a me non mi frega niente mi frega molto i più iscritti che ci arriviamo ai 5 milioni perché voglio avere questa il p per il culo non so neanche come pronunciare quei nomi però ti no però grazie però no però grazie ecco fate iscrivere tutte le persone che non sono iscritte al mio canale te prego almeno per far uscire i video di 5 milioni poi potete anche levarla chi se ne frega ok qua prima ho sbagliato se riesco a capire come ho sbagliato non sbaglio di nuovo perfetto è andata a volte è meglio non pensarci alle cose mica c'ho un'ansia addosso non avete idea non ridete vi ammazzo mi sono appena iscritta con l'account di mia madre brava create account fatelo anche ai cugini vado noi ok questa è l'ultima non era l'ultima scherzavo questa è l'ultima dove sono caduto prima qua come ho fatto a cadere qua ce l'ho fatta sono forte ce l'ho fatta 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 bene calmi 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 ok siamo quasi arrivati quasi arrivati alla fine questo schifoso lurido rettile se lo cavalco stacco la live perché mi torna all'inizio anzi vi faccio vedere perché magari molti di voi non lo sanno vi faccio solo vedere un secondo che cosa fa questo serpente solo questo fa vj snake magari qualcuno l'ha campionata no tranquillo ci vado io vi faccio vedere un secondo cosa fa il serpente perché magari alcuni di voi non lo sanno il serpente fa questo non dite niente non dite niente sono già incazzato questo fa ma non importa non lo farò parca vacca non vedo sto video da un anno i capelli non sono cambiati molto bene cosa avevo sul naso in sto video ah non si vede perché c'ho overcam vabbè parca va ma scusate ma questa è quella è la faccia quella è la faccia che non avete visto forse in pieno ma meno male di una persona che vuole morire The Lady una donna per cui uccidere ciccio gamer molto bene per i video consigliati andiamo avanti vi ho fatto vedere cosa è successo questo è quello che succede se prendi quindi se non lo prendiamo è meglio se lo prendiamo per sbaglio muoio anzi prima prima c'ho l'altro account con cui devo rifarmi comunque tutto sto pezzo qua se anche con quello dopo cado ho finito la live bene speciali cicognoni è attesissimo rega lo so non posso dirvi niente mi dovete scusare veramente mi saluti sono Stefano grazie mille di avermi sono Stefano però ti chiami Lucrezia con l'account ok facciamo un dissing volentieri il kiwi così prendo iscritti allora iscrivetevi con tutti gli account che avete let's go micchia è ottima questa cosa che ho fatto subito se non cado giù eh ma no 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 ragazzi no ragazzi non c'è Grazie a tutti No Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Mi ha fatto ridere Press F to pay respect Quanto vorrei essere blur Io non Come minchia ho fatto a cadere sotto Il serpente Sotto No ragazzi C'è Non ho Non ho Non lo so Vabbè dai Carichiamo l'altro account Mi va bene che ho l'altro account Perché sennò Dovevo interrompere la live Ma Ma poi No no Sotto il Sotto il serpente C'è Neanche dici Ho preso il serpente Sono un troglodita Sotto Come dai Ma fate i seri No ragazzi Cioè io non mi sento proprio In grado di Vabbè fammi loggare Sull'altro account Allora aspetta Sto loggando su steam Con l'altro account Che non è mio Non posso far vedere Ovviamente Se non si vede la password No ragazzi Cioè io non ho Non è possibile Ma poi Ma poi No no Ma dai Ma sotto 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 il serpente Sono caduto Sotto il serpente Non sopra Neanche dici Minchia No 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 ragazzi Io vi giuro Su dio Non Ma neanche Un rincoglioni Ma come ho fatto A cadere Sembra Sembra che l'ho fatto Apposta Cioè hai capito Io sembra che l'ho fatto Apposta Sta roba Un coglione Non posso dirlo Che non è Un deficiente Ma di quelli Boh Proprio Non ho parole Io non so Non so Proprio Non so proprio cosa dire Ragazzi Non so Come ho fatto Ma poi Ma Come si logga Qua Cribbio No Non me le merito Non me le merito Via Via Non mi merito niente Grazie però Grande Alfredo Davvero un bel fungo Cosa c'è Io sono Sono Da uccidere Vi giuro Su dio Ma poi no Ma ragazzi Ma di cosa stiamo parlando Ma poi sono caduto Io sono Sto rientrando Su Lugettingo Però devo ripartire Vabbè Sono Orribile Come persona E Io mi sento In dovere Di dirvi Che voglio morire Vabbè No ragazzi Io non 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 Ho solo più Questa vita Non ne ho più Perché ho Grazie Ma sono Sono stato Previdente Nel farvi fare Un altro account Cioè nel farvi prestare Un altro account Da mio amico Che è più bravo di me Che è arrivato Fino qua E mi ha detto Senti arrivami fino lì Che se cado Ed è successo Torno almeno qui Perché se no Non ha senso No ragazzi Io non Non so cosa Dirvi Ve lo giuro Mi sono impegnato Tantissimo Vabbè Grazie Dai Non è successo Niente Dai Torniamo come prima Come prima Sono forte Speedrun Speedrun Non è successo Ok no Perché se no Vado in down Tutto il video Vai Niente Sì però Devi aiutarmi Gioco Ti prego Ti scongiuro Madonna Ecco Un cazzo Allora Se cado di nuovo Non ho più vite Non posso più fare niente Perché questo è un altro account Quindi se cado Più giù Del punto di prima Io non ho più account Quindi vado a mignotte Ho finito il video Ho fatto iscrivere tutti i miei parenti Non ho più nessuno Bene Fagli creare un altro account E ricomincia Ragazzi Sto male Iscrivetevi al canale Almeno quello Almeno iscrivetevi Al canale Dove la Sabaku mod Cos'è la Sabaku mod Di Getting Over It C'è Sabaku Al posto di No vabbè L'avrei giocata subito Sarebbe fighissimo Favij Non maiku Veterana Come si fa la Sabaku mod No subito l'avrei fatta Ma ci sono le mod Di sto gioco No scusatemi Ci sono le mod Sarebbe fighissimo Che fortuna Che ti ha prestato l'account Non che fortuna Gli l'ho chiesto io Che è un account Con cui condivido Tutti i miei giochi Ma E l'account non è mio Il mio amico Che è molto più bravo di me A giocare a sta roba Cioè lui fa la speedrun Proprio Speedrun Vabbè di 5 minuti Sempre meglio di che 5 ore Togliti Grazie E se cado qua E ragazzi Abbiamo finito Micchia Che è successo Baseball Com'è caduto lì Fammelo Vabbè dai Lasciamolo lì Se finisco Se cado stavolta Ciao No no Io non so come ho fatto Accadere Un troglodita Ero Ero Era Ma non Ma vabbè Lasciamo perdere Dai Dai No è successo di tutto In sta ora di live Il jumpscare Quello Tutto No ragazzi No ragazzi Vi giuro Io me la riguarderò Tutta la vita E' bellissima Per voi Per me è una merda Ma per voi è fantastica Quindi Nel momento in cui sono calmo Mi verrà da ridere Riguardandola Se cado un'altra volta Abbiamo finito Finito il gioco Ve lo dico Quindi io O la faccio Non c'è un modo per evitare Di prendere il serpente Quel punto Quello che mi da fare Perché da quel punto Posso tornare indietro Se la passo E' fatta Ma che si cucù Cazzo Devo essere bravo A non cadere giù Col serpente Però è impossibile Perché poi non è che Cadi qua Qua Cadi tutto indietro Devi rifare No non posso Vincere Quindi In questa live O lo finisco Perché se passo Quella parte Lo finisco Sicuro O non lo finisco E la E la E la E la La prova Finale O lo finisco O no C'è solo questo Da fare E la prova E la della verità Sei depresso Eh un po' si Cosa ti da youtube Quando arrivi a 5 milioni Come premio Un calcio nel culo Se ti interessa Perché non ci sono premi Per i 5 milioni Ci sono per i 10 Cioè per l'ultimo premio Di youtube Ti da Te lo dai 10 milioni Che però E c'è Non Non penso Non lo so Non so se in italia Ci si può arrivare Perché siamo Troppo pochi Va fanculo Sì Va bene Va bene Va bene Va bene Mi fammi incazzare Io invece non mi incazzo Iscrivetevi con tutti i canali Che avete Vi prego So che tu che stai guardando Non l'hai fatto Perché non l'hai fatto Fallo Dobbiamo arrivare Ai 5 milioni In tempo Porco demonio Porco No Intanto sto verso che ho fatto Lo fa anche lui Ah ma non si sta sentendo L'audio Ottimo Non si stava sentendo L'audio del gioco Eh ditemelo L'ho dovuto mettere adesso Non c'era l'audio del gioco Why Vabbè che non Non so che audio emozionante Possa essere questo Cioè se non Se non Ferraglia Che Si scontra Con un'altra ferraglia Ecco schifo l'aido C'è qualcuno che ha fatto Sto gioco in laide Di youtuber oltre me Voglio vedere come Come cosa hanno fatto No perché Boh Dai Curiosità Nel Ve la dico dopo Ve la dico adesso Nel video che ho fatto Di getting over it Un anno fa Quindi quelli Quattro episodi Che ho fatto Dove c'è tutto il gioco Quando ho preso il serpente Non è che c'ho Il salvataggio Ma lo sono dovuto rifare Quindi ottimo Dai Perché fai schifo Al pene Oh No 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 Ok almeno lì Almeno lì Stai fermo Ok va bene Sono contento Va bene così Tirati su 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 Perfetto Bene Ok Calmi Mi ero salvato Ma non ce l'ho fatta Va bene Blah Non sto a parlare C'ho C'ho l'ansia C'ho C'ho l'ansia Non è vero Madonna Ma perché Il mio vicino Mi vorrà uccidere Dai Perché è così difficile Perché è così difficile fare questa cosa Perché prima non era così difficile Adesso lo è Niente niente Voglio morire Voglio morire adesso Minchia stavo facendo una roba orribile Volevo darmi lo slancio per andare a destra Ma non l'ha fatto Meglio così Perché manca tanto così e non ci arrivo Perché? Niente 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 Proprio io Io niente 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 No Il gancio non lo potete prendere Raga è finto È fake Sai quante volte ci ho provato Vedi che non funziona il gancio C'è un po' sì però no in questo caso Voglio il video col cane Guarda vi faccio vedere il cane in live Se arriviamo a 5 minuti di skip in live Quindi iscrivetevi con tutti i secondi account e faccio il video passato Se Se la mia pazienza non mi uccide prima Ok Bene Non è vero Dai ragazzi Perché deve essere così difficile Perché mi dovete fare odiare il demonio Che vabbè non sarebbe male Però No stavo facendo esattamente la roba di prima Io mi do Mi illudo che posso lanciarmi A destra Agganciandomi a sinistra Non puoi farlo Perché è difficile Prima non era così difficile Ti vedi incazzato o sbaglio? No ma va Passo così i miei pomeriggi Dai Oh no dai Non mi prendere per il culo Perché è difficilissimo Prima non lo era Dai ragazzi Che Mogonna Metti il culo su quell'affare Il culo Fermo Dai ragazzi Dai non prendiamoci per il culo Sul serio Io ammazzo qualcuno Vi giuro Beh beh bello Bravo bravo Complimenti Complimenti Raga il gancio nella roccia Non funziona E' finto Se no mi sarei già appeso Sei anni fa Voi non avete Se voi non avete Getting over it E non ci avete mai giocato Io non vi so spiegare Quanto è difficile Cioè non solo E' proprio difficile muovere il martello Cioè io non so spiegarvi Quanto è frustrante sta roba Ecco Guardate come sono rimasto Vi prego Guardate come Vi prego Gesù Vabbè posati lì Ok Molto bene Ok Fermi No Oh Minchia meno male che hai iniziato a parlare il narratore Ringraziando il Dio E' un momento delicato Davide ciao Favi Ciao Davide Prima ti ringrazio per la gioia che mi hai trasmesso in molti momenti Prego Grazie a te Poi cosa ne pensi di numeri negativi che ha fatto l'ultimo I dislike Dici numeri negativi Non ha fatti un sacco in realtà Ci ha fatto un botto di pv I numeri negativi penso di tenere i dislike L'ho detto all'inizio della live Guardate all'inizio della live Iscrivetevi tutti con un altro account al mio canale Come se non l'avessi capito Vado Che ansia Molto bene Molto bene Molto bene No Raga cosa gli sta succedendo alla testa Cosa fa? Non ci sta credendo neanche lui Non ci stai credendo di dove sei vero? Perché ti guardi in basso? Guardalo Cosa fa? Guardi che ce l'hai piccolo? Sono contento di essere caluto qua E non più sotto di così Però volendo Sarebbe stato meglio cadere più sopra Ma non fa niente Voglio morire adesso Quanto mi rimane di live? Un'ora Ho un'ora di Ho un'ora di In un'ora devo finire il gioco Un'ora Manca solo quello Un'ora e un quarto Vabbè Ho un'ora per finire il gioco Io non so se ce la farò Ci devo provare Sto minchia di cappello Io ragazzi non ho parole Dai Minchia Poi questa è la parte facile Se poi Se riesco a A finirlo Facciamo la reaction Dello speedrun Così Perché mi va di farlo Nooo Stavolta ti inculi Ecco No No Ok c'è lo jumpscare Che non ho voglia di prendere Ecco Eh non mi hai fatto paura Stavolta Prima si E ne ho pagato Il prezzo Beh Era Mi confermate Che era per Halloween Sta roba C'è È ancora Natale Ed hanno tenuto Il coso di Halloween Va bene Che compare Dopo un po' Che cadi In questo punto Tra l'altro Non compare sempre Fai Rocket League Che ti procura Meno tentazioni Al suicidio A voglia Dai Che schifo Ma non posso No Ci ho provato Raga Che palle Quanto mi rimane Un'oretta Dai 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 No Eh ma no Guarda che te lo dici Da solo Eh No No Ok Bello che ci sono volte Che non ci arrivo A sta roccia Dove sono adesso Ci sono volte In cui la supero Come Una via di mezzo No 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 Madonna Stai fermo Fermo Eccolo il microfono Non sta fermo Raga Ce la posso fare Dai Dai Che fastidio Dai Ragazzi Perché Questo No Raga Io veramente Ve lo giuro Poi oggi Non ho mangiato Non ho dormito poco Io vi ammazzo Grazie Non me li merito Te li ridarò Un giorno Che siamo Quasi 5 milioni Tutti meritati Non è vero Però grazie Anche se è motivo Che ci la farei a finire In un'ora Non penso Cioè Allora Allora Il discorso Non è questo Il discorso È che Sicuramente Tra un'ora Qualcosa succede O lo finisco O cado sotto E non lo posso più finire Perché sono ritornato all'inizio Quindi O lo finisco Cioè Non è che tra un'ora Rimango qua O lo O lo Molto prima di un'ora Finirà questa live O lo finisco O no Quindi non c'è una via di me O cado all'inizio O no Quindi non lo so Se ce la farò Però Non è che finisce Che sono ancora nell'incudine Tranquilli Quindi Lo vedrete un finale In un modo o nell'altro Tranquilli Io spero più nell'altro Che Che è quello positivo Sarebbe figo Finirlo in live Impossibile Porca vacca Lai da morta Grazie Favij Non te li meriti Stai scritti Ma perché Non sai andare su Perché Cosa devo fare Cosa devo fare No dimmelo No ragazzi Io vi giuro Vi ammazzo Non a voi Ma a chi ha fatto sto gioco Non ce la posso fare Vi giuro Su dio Via 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 Un omicidio Quanto Fai un po' Con family friendly Quello che sto dicendo Credo che non arriverò mai A 5 milioni iscritti Ma un giorno Se dovessi arrivarci Non so se avrei le palle Che hai tu Di fare una run So getting over Ma guarda Ma neanche io So come sto facendo Questa cosa Quindi Ti ringrazio Giacolas Ma vorrei capire Come faccio io Ad averle Queste palle Grazie mille Se non lo finisci oggi Devi fare un'altra live Dove lo finisci Si No E' già un miracolo Che abbia fatto Due live Su getting over it Dove questa Forse la live Per voi migliore Che abbia mai fatto Per me peggiore E non la farò Mai più Mai più Lo toccherò Mi disinstallo Il computer Mi formato tutto Il prossimo che mi dice Che devo usare il gancio Lo uccido Dai ragazzi Facciamo i seri Dai Dai Il telefono Dov'è il telefono Via 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 Non me ne frega niente Via Mi sto No no Mettiti Senti pure i razzi Nel culo Quando non serve Complimenti No raga Se io Non Non Dai Ma perché non riesco a farlo E ogni tanto si Stai fermo Stai fermo Minchia Porco schifo Dai sali Madonna Niente Non salto Niente Non salto Ok Io se cado Io se cado E torno Indietro Che non posso più andare avanti Quindi come ho fatto prima Spengo la live Ve lo dico Ve lo ho detto Dai ragazzi Perché non esiste Perché è partito un dissing A T-Series Nei miei commenti What Molto bene Molto bene Devi morire Devi morire Devi morire Voglio ucciderti Perfetto Piano Se arriviamo A 5 milioni In questa live Fai vedere Sam Sì Assolutamente sì Ma non ci arriveremo Non per Mi sfido Fate account Iscrivete Proviamo Intanto comunque Il video con Sam Lo faccio in settimana Vieni tranquilli Mi sto Scusatemi Mi sto caricando Perché se poi vado Cado Mi ammazzo Quindi voglio Voglio un attimo Sentirmela Cioè in sto gioco Te la devi sentire Perché se non te la senti Fai una cagata E cadi giù Quindi mi sto caricando Scusatemi T-Gay T-Series Gay Perché è partito Il dissing a T-Series Nei miei commenti Cos'è successo Vabbè Se arriviamo a 5 milioni Di iscritti Se vi iscrivete Con tutti i vostri Secondi account Faccio un dissing a T-Series Anch'io Lo faccio piuttosto Non lo so Cosa c'entra T-Series È sparita È iniziata sta Sto dissing Dimmi come Vai Grazie Mazzumoto Cosa 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 c no 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 porco demonio morto subito lo rifaccio subito devo rifarlo subito veloce 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 devo ritornare lì in 4 secondi subito 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 devo ritornare lì subito mi sono rotto le palmi mi sono rotto le palmi mi sono rotto le palle me le sono rotte basta basta sto gioco lurido latrina basta che palle voglio arrivare alla resa dei conti voglio vedere se cado giù definitivamente o no voglio vedere quello voglio vedere quello se cado mi ammazzo non me ne frega niente perchè ti prego puoi fare veloce per cortesia voglio arrivare lì per cortesia grazie grazie gentile porco demonio grazie voglio arrivare lì molto gentile no voglio arrivare lì allora ragazzi adesso mi impegno come non ho mai fatto prima e voglio arrivarci non me ne frega niente piuttosto sto zitto non dico nulla ma devo arrivare lì piuttosto mi ammazzo ma ci arrivo perchè non ce la posso più fare ve lo giuro molto bene e fino qua ok questa cosa mi fa incazzare che la gente lo fa in 20 secondi sto pezzo quelli di speedrun come fanno hanno una vita hanno una famiglia hanno una ragazza no la risposta è no poi mi fa ridere che torna sull'incudine no perché madonna perché quando mi aggancio lì torna indietro perché devi tornare indietro stai lì fermo fermo io vi giuro l'ho ammazzo oh e ci voleva tanto ecco piano ok no va bene sali perfetto e la parte difficile l'abbiamo fatta ok non sbagliare adesso la parte difficile l'abbiamo fatta ti ammazzo perfetto l'ultimo 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 micchia c'ho un'ansia che non avete idea c'ho un'ansia che non avete idea non lo potete capire giuro si no 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 sì 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 questo 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 volevo questo allora allora io non ho più account Per riprovarci Quindi se io Cado giù di qui Ho perso La live Non gioco più Se cado giù di là Sinistra volevo dire Di là io indico il mio monitor non lo vedete Se vado giù di là io ho smesso Bene Vogliamo sam Dovete iscrivervi con un altro canale per quello Arrivo a arrivare a 5 milioni iscriviti In questo video E Se no Lo vediamo in settimana Adesso Se io vado su col secchio E arrivo sopra Il gioco lo finisco Perché ce la faccio a fare quello che do Se io vado giù di qua Non ce la farò mai più Bene 3 2 1 No no la voglio concludere Giorno No 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 Ok va bene Basta che non cado giù Prima quanto sono durato 3 secondi Raga io mi sto Cagando addosso Non fare Cagate Va bene No perché mi fa Cagare addosso il secchio Dondola troppo Il secchio Molto di più Molto di più Dai Micchia quanto ho rischiato qua Ce l'avevo Forse Forse Dondolarsi La È il modo giusto Forse devo Dondolarmi No Che ansia Incredibile No ragazzi C'ho solo sto salvataggio E non c'ho più niente Dai Si 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 Giusto No 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 Porco demonio Porco L'importante è che non cado giù Nel serpente Ecco bravo Era giusto Era giusto No No Molto bene Bravissimo Bravo 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 Tirati su Dai Bravissimo 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 Dai 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 Sì Non ci credo Devo superare questa montagna E l'ho fatto No Rega Devo superare la montagna Il problema E che è difficilissimo Superare la montagna No no È difficilissimo No 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 Sì Sì si No 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 Minchia mi sono salvato È difficilissimo Raga Dai 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 Non è vero Dai Ti prego Ti prego Dai Sì 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 Quanto è ripido Dai Non ci credo Dai 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 Non ci credo Non ci credo Non è possibile Non è vero Non ci credo Non è vero Raga Raga Oh Minchia 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 Che ansia Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Ti prego Grazie Barney Stilson Andiamo a rimorchiare Tutti e due Con la madre Di un fratello Non fare il porcello No Non cadere Minchia Raga Grazie Pente Allora Siamo Non ci credo Siamo a Quanto Siamo alla fine Alla fine C'è C'è questa C'è Il carrello Poi c'è questa cosa A destra Di pietra E poi c'è la torre E ho finito E ho finito Se sopero la torre Ecco Non cadere Per cortesia Non cadere Giù Dai 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 Va bene Va bene Piano 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 No Dai 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 Minchia Raga C'ho un'ansia Dai Vi prego Oh se finisco Mi dovete Iscrivere Con tre Account A testa Me lo merito Come minimo Già me lo merito Adesso Quindi uno Adesso Gli altri due Solo se vengo Che impossibile Non ci credo Sto male Sto male Sto male Non sono mai arrivato qua Una seconda volta Perché poi ci ho rigiocato Mai ci sono arrivato una seconda volta Infatti non mi ricordo quasi niente Dai Minchia ce la devo fare Ma secondo me se mi spingo da qua vado più su Dai 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 Perfetto Ci siamo No Ci siamo Raga se 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 cado qua Potrei cadere dalla montagna E cadere tutto giù Minchia Iscrivetevi Subito Al canale Me lo merito Li mortacci mia Minchia Che bordello ho fatto E solo se vinco Col secondo account vostro Solo se vinco Però dovete loggarlo E non fate mai pirla Parola La parola si mantiene Minchia Non ci credo Sono in ansia Perché Vi prego Vi prego Ogni volta che dici molto bene Più mi viene in mente sapientino Ti ricordi Sì ma Non è dopo Parliamo dopo Parliamo dopo Ti prego Grazie Molto gentile Va Parliamo dopo Se cado Cado giù dalla montagna E quindi Devo rifare il pezzo Se non tutto Quindi non devo cadere Sono in ansissima E il pezzo finale Vado No 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 Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Non importa L'importante è che non cado giù L'importante è che non cado giù dal serpente Va bene Bravissimo Sono contento se vai su Ti prego Ti comprerò Ti adotterò un bambino sano Ti prego Vai su Dai ti prego Non cadere giù Ci ho messo una vita Ci ho messo una vita Ti prego Farlo per le bocce Non lo so Ragazzi Ragazzi Facciamo i seri Vi prego Vi prego Vi prego Ti prego Non mi fare questo Ti prego Sono stato sempre bravissimo Faccio i video Non clickbait O mai Dai 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 Ti prego Non cadere Non cadere Ti prego Ti supplico È difficile Lo so Però lo so Che lo puoi fare Ti prego Dai Ti prego Vai su Quanto tempo Dai Dai Vai su Su Va bene No Non va bene Non va bene così Non va bene Vai giù Stai andando Tutto giù Ok Va bene L'importante è non cadere dove c'è il secchio Che poi è un casino L'importante è non cadere dove c'è il secchio Va bene Lo rifaccio Lo rifaccio Ti prego però Stai su Su Minchia Minchia Devo solo Devo solo Devo solo passare questo punto Questo Passalo Per favore Passalo Passalo Passa questo punto Questo lo passi Lo passi Minchia che ansia di vivere Porco demonio Perché io devo giocare a questa roba Vai su Come hai fatto prima Come hai fatto Vai su Non cadere Minchia Poi questo punto non ha pause Sto morendo Sto sudando Non è vero Ah Minchia mi sono salvato Vai Per l'amor di Gesù Giuseppe e Maria Vai su Vai tutto su Ti prego L'hai fatto L'ho fatto prima L'ho fatto prima come niente Come fosse Una scala mobile Vai su Dai che ce la faccio Dai che sono arrivato troppo avanti Per perdere Sono arrivato troppo avanti Devo superare la montagna È difficilissimo Come ho fatto prima Perché scivoli No 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 Ti prego Non ci credo Mi sono salvato Non è vero Minchia mi sono salvato Come ho fatto a non cadere Sto sudando Sto sudando Con le mani Sto sudando Sto sudando Sto sudando Con tutto il corpo Con qualsiasi parte Del mio corpo Sì avete capito bene Andiamo avanti Minchia mi faccio una tisana Se arrivo su sta montagna Vi prego Cos'è successo Si è incriccato Cos'è Vai su Vai su Madonna Vai su Su Sopra 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 Di su Madonna Ti prego Ti prego Sto sud Veramente Mi metto in mutande Sto sudando tantissimo Ok Come ho fatto prima A tirarmi così forte Perfetto Bravo Bravo No Bravo No Ok Solo quello Solo quello Devi superare quel punto Questo punto Superalo Demonio porco Supera quel punto Superalo Supera quel punto Superalo Non è difficile Te lo giuro L'ho fatto prima Dai 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 No No Porco demonio No 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 Grazie. 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 Devo, devo, devo un attimo calmarmi, scusatemi, ma mi scivola non solo il martello, mi scivola il mouse sotto la mia mano, perché la mia mano è un lago di sudore. Dai. Come Kaneki. Iscrivetevi al canale, chi non si iscrive è un bufo schifoso, mi sto facendo un culo così me lo merito, cazzo. Iscrivetevi. Vado. Con calma, con calma, calma, calmati, calmati, calmati. Se la fretta non raggiungiamo niente, calmati. Calmati. No, ti devi calmare, devi stare calma, devi infilare quel piccone dentro la neve. Non c'ho la scrivania abbastanza grossa per fare questi movimenti, cribbio. Come ho fatto prima. Come ho fatto prima. Come ho fatto. No. Che cosa minchia fai? Dai, dai! L'ultimo punto, l'ultimo punto. Solo questo, non ti chiedo nient'altro. Puoi morire dopo. Puoi morire. Finisco questa live e muori. Va bene? Perfetto. Perfetto. Puoi morire. 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 Porco demonio Ma perché una certa scivoli Cosa faccio di sbagliato rispetto a prima Ma perché scivola una certa Cosa c'è Spiegamelo Dimmelo No dimmi perché non capisco Il martello è nella neve Quindi devi tirarti su Su Mentre lui scivola Non si sa perché Non capisco come dovrebbe Il meccanismo non lo capisco Mi tiro su a caso Prima ha funzionato Perché ma no Dai Che palle Devo bermi un tè Perché sennò Divento scemo No, 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 no No, 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 no... Mi Tolkien ha aumentato Amore Grazie a tutti. 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 Porco demonio, porco... Non so... Come... Non so... Eravamo a... Ma... Poi sono caduto... Sai cosa mi fa incazzare? Sai cosa mi fa incazzare? Sai cosa mi fa incazzare? Non me li merito, te li ridò indietro. Come si fa? Non me li... Non li voglio. Non li voglio. Non voglio niente. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non voglio niente. Non voglio niente. Non voglio niente. Sono incazzato come una bestia rara. Sono veramente... Non è euforico purtroppo. Non mollare tu hai un cuore d'oro. No, è un cuore d'oro ma ho una testa di... Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. No, no, vabbè. Allora, facciamo una roba. Non posso più... Non ho più salvataggi. Non posso tornare l'opero prima. Mi fa incazzare che ero arrivato a... Al 99%... Avevo finito. La torre quella alta era l'ultima cosa. Io mi tiravo su una volta in più e il gioco era finito. Finito. Io sono caduto come un deficiente. Ero a tante... Ero al 99% del gioco. E avevo vinto. Ero finito. No, avevo finito. Ora sono finito. Che è diverso. No, non posso... Non posso... Non posso farcela. Ormai sono troppo indietro. Cioè, non riesco a ritornare in quel punto. Io avevo un salvataggio... Che avevo grazie a questo secondo account. Dove... Ehm... Come si dice... Ehm... Dove... Dove superavo un punto che non riesco a fare. E grazie a quello potevo arrivare alla fine. Adesso non ce l'ho più. Quindi io quel punto lo dovrei rifare. Che è quello del... Orange Hell. Che è porco demonio! Porco è qua davanti. Quindi facciamo così. Ci provo una volta. A vedere se riesco a sorpassarlo. Ma è... C'è una possibilità su tipo mille che io ci riesca. Quindi è impossibile. Ci provo. Se ci riesco, bene. Se non ci riesco... Porco demonio! Ci provo una volta sola. Perché almeno... C'è una possibilità su mille c'è. Si sa mai che funzioni, ma... Ragazzi, ero arrivato a tanto cos... Ero arrivato alla fine. Era la fine. Quella era la fine. Avevo finito il gioco. Avevo finito il gioco. No, raga. Io non... Ma non... Ma non... Ma non ci posso pensare. Non ci posso pensare. Porco demonio! Porco! Non ci posso... Ero arrivato... Quello che mi fa più incazzare è che ero arrivato alla... Era finito! Avevo... Avevo fatto tutto benissimo. Avevo fatto delle cose incredibili. Ma io mai ci avrei scommesso un euro sull'esserci... Sull'arrivare così lontano in questo video. Avevo finito il gioco. Devo solo tirarmi su. Era finita. Sono caduto. Sono caduto tutto giù. Porca vacca. E non posso tornare più lì. Perché è impossibile. Come dai non prendertela? In che senso? Ti rendi conto di quanto ho fatto schifo? Ragazzi, io non so... Io provo... Una volta... Una sola. Provo una volta a rifare il punto. Quello che... Che non riesco mai a fare. Quello per cui avevo il secondo salvataggio. Se riesco a farlo, bene. E qua. Se non riesco a farlo, abbiamo finito. E levati. Se cado qua a sinistra, ho finito. Se riesco a farlo, cosa impossibile... Va bene. Vai. Via il dente, via il dolore. Via. 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 Grazie a tutti. 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 Io ci voglio riprovare perché non sono caduto del tutto. Però... Se cado tipo di sotto dove devo rifare il salto non lo faccio più. Fatemi sapere... Se avete delle domande in conclusione della live... Che è finita bene! Grazie a Dio. Spero che il video vi sia piaciuto. A me no. A me ha fatto schifo tutto. Mi ha fatto veramente schifo. Fammi riprovare solo il pezzo delle rocce. Giuro su Dio, è l'ultima volta. Se non riesco, chiudo. Se riesco, ci avrei ancora mezz'ora di live e provo a farlo. Se no va a fanculo. Ci provo proprio l'ultima volta. Proprio l'ultima. Giuro che è l'ultima. Giuro su quello che volete. Se cado adesso, basta. Anche se cado la stessa scale. Basta. Dai che palle! Ma perché non ti tiri... Ok. Dai! Vai su! Cristo! Vai su! Vai su! Vai su! Madonna! Ok. Sì, vabbè. Se c... Basta! Se cado, basta! Basta! È finita. Lo disinstallo. Completamente. Ma mi ha salvato un millimetro, mi ha salvato. Un'altra un millimetro, mi ha salvato! Grazie. 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 Sì. 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 Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Siamo ancora vivi. Siamo ancora vivi. A Berlino. Veloce. Veloce. Ce la faremo. Per quelli che ci hanno creduto. Per tutti. Per la Giamaica. Ce la faremo. Ce la faremo. Ce la faremo. Lo faccio. Lo faccio. Crediamoci ragazzi. Crediamoci ragazzi. Crediamoci. Dai ragazzi. Ce la facciamo. Ce la facciamo. Dai cactus. Dai. 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 Ce la facciamo. 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 Dai. 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 Dai dai mezz'ora mezz'ora ce l'ho ce l'ho ce la facciamo ce la facciamo ce la facciamo Ce la facciamo raga ce la facciamo me lo sento ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho io ce l'ho me la sento ce l'ho Ce la facciamo ce la facciamo me la sento me la sento cavolo me la sento me la sento Dai, 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 su, 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 che ce la fai? Ce la fai, ce la fai, ce la fai, sei bravo, sei bravo, sei bravo. Porco demonio, porco. Quanto ho? 29 minuti, ce la faccio. Ce la faccio. Ce la facciamo, ce la facciamo, ce la facciamo. Dai, 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 dai. Ce la faccio, ce la faccio, siamo bravi, siamo bravi. Grazie Giacomo, grazie Kribat. Ce la faccio, ce la facciamo, ce la facciamo. Regà, ci sono, ci sto dentro, ci sto dentro. Ce l'ho, ce l'ho, stavolta ce l'ho. Che schifo di salto, mio nonna lo faceva meglio. Vai, ci facciamo. Cadere, porco demonio. 28 minuti, dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Dai! Porco schifo! Devo stare calmo, perché se no mi sbaglio. Dai, 28 minuti. Ce la faccio. Poi mi sder... Ste parti mi snervano. Oh! 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 dai dai buona è buona porco demonio porco tirati su porco schifo tirati su capperi tirati su ma cosa c'è di difficile e a a a a a a a a a Stai lì Cristo Stai lì Dai 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 Ormai non me ne frega più un cazzo Devo finire questo gioco delle palle Devo finirlo E lo finirò Lo finirò quanto è vero iddio Porco demonio il microfono Mi blocca il mouse Il microfono che mi blocca il mouse Vai avanti Avanti Perché il mouse arriva in ritardo Che cazzo è un gioco tipo Battlefield no Come se laggasse Che cosa lagghi Che fai schifo Il mouse mi da veramente fastidio Ve lo giuro su dio 20 minuti 20 minuti Perché non riesci a salire Come un Cristo normale Perché Spiegami che cazzo ti fa tornare indietro Che fisica Ma spiegalo Perché ti giuro Non lo capisco Che cosa ti fa slittare Sei fermo Sei fermo Che cose raggi Dai, 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 dai Serio, 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 serio Dai 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 Venti minuti ho ancora Ti prego A posto, tranquilli A posto, a posto, a posto Tranquilli, tranquilli, tranquilli A posto, easy Calmi, zitti, tranquilli A posto A posto Oh, che demonio Porco morto Perché vai a destra? Chi cazzo te l'ha chiesto? Tranquillo Agganciati a sto schifo Mi ha distratto Mi ha distratto Mi ha distratto Non mi distraete Vi prego Vi prego Iddio Vi prego Vi supplico Grazie Ma vi prego No No Grazie Mi fa dai 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 ma sto saporando sta vittoria ve lo giuro ve lo giuro giuro attaccati a a a a a Mi spiegate perché non riesco a salire qua sopra E prima l'ho fatto sempre in un secondo Cos'è cambiato da prima Oh Sì E' l'ora ragazzi E' l'ora E' l'ora E' il momento E' il momento Senza pensare E' il momento Algo E' il momento Qual'è la tecnica per salire su questa cazzo di montagna? Qual'è la tecnica? Cosa faccio di sbagliato? E che cosa faccio di giusto? Probabilmente di giusto niente E allora perché non me lo spieghi? Dai! 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 Ti prego Farò! Dai! Farò qualsiasi cosa Se cado ho finito Ho finito La torre finale Sono al 99% del gioco E' finito No no E' finito E' finito E' finito Devo fare questa parte E' finito No 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 Non hai capito Perché ti muovi storto Cristian Calmati Perché sei storto Quando ti muovi Il mouse si muove Come lo dico io Ok Muovilo così Sinistra Destra Bene Sto testando i movimenti Perché li fa come minchia vuole Dai! No 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 Va bene Va bene Sono qua Scusate ragazzi Devo concentrarmi Sono veramente concentrato Scusatemi Sono veramente concentrato Scusatemi davvero Non leggo Ma sono vera Porco demonio Porco no No! Eh La torre è facilissima Cosa non mi riesce Mi sto tremando Schifo Ti prego Fai quello che ti dico Con i comandi Ti scongiuro Iddio Se vado giù Tu vai giù Se vado su Tu vai giù Non è che devi fare diversamente Da quello che ti dico Fai quello che ti dico No scendo Devo farlo bene Devo agganciarmi Perché se no non vado su Mai Ma che cosa c'è di difficile In fare questa parte qui Di so che hai fatto la montagna Che era impossibile Sembra che il martello Si sia rincoglionito il martello Il martello Ragazzi Io non so che cazzo Li prenda sto martello Fa quello che vuole Lassù il martello Fa quello che vuole O sono io che mi sono Psicologicamente chiuso Ho il martello Non lo riesco a muovere Lassopra C'ho dei problemi Di movimento Ve lo giuro Bravo 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 Puoi muovere il martello Così anche qui Dieci minuti mancano Devo fare in tempo Poi devo chiudere Porco demonio Porco Porco demonio Porco Porco Che Minchia fai No 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 Vabbè Come minchia Si fa questa parte Perché Lo vedete che si muove Come minchia vuole Non lo so se si vede dal video Ma ve lo giuro Il martello Sinistra Destra Sinistra Destra Sinistra Si muove Stranissimo Che cazzo è Ma cosa c'hai Ti lo giuro Ragazzi Non so che cazzo Non so cosa succede Cosa cazzo fai Vai su Vai su Gira Ma cosa fai Ma Datti la spinta Fammi riavviare il gioco Perché secondo me Si è sminchiato qualcosa Perché è veramente Incoglionito Lo vedi come il mouse Sinistra Destra Sinistra Uguale Devi fare tu Uguale Riavvio Ho riavviato Perché sennò No Che cazzo fai Che cazzo fai Oh Qual è il problema? Spiegani Lo faccio lentissimo Lentissimo No, no, no Era l'ultimo salto Cristian Era l'ultimo salto Era l'ultimo salto Dovevi fare solo quello Era l'ultimo salto L'ultimo L'ultimo salto Sei caduto come un deficiente L'ultimo salto Era l'ultimo salto Dai, minchia, c'ho il cuore a mille Ma vi pare che a 23 anni C'ho il cuore a mille per sta roba Dai, finiamo sta roba Finiamo sto schifo di Letame uscito su Steam Finiamolo, vi prego Vi prego Buongiorno Stai fermo Stai fermo Stai fermo Stai fermo Perché ti sei spinto a sinistra Se ti ho fatto spingere in alto Spiegami Che minchia fai Se ti spingo Tu vai su No Mi rifiuto di fare questa fottuta montagna Io mi rifiuto Raga io sono fermo Fermo Ho l'ansia ma sono fermo Sono fermo Madonna vi giuro Lo ammazzo Chi ha creato sto gioco Lo ammazzo Lo ammazzo Io lo ammazzo 8 minuti Mancano 8 minuti alla fine della live Quanto è vero il dio Se non vi iscrivete col secondo Se finisco sto gioco Guarda Oh Quanto è vero il mio Quanto è vero il mio Cosa c'è che sbaglio Me lo dite Mi devo solo appendere Io non ci posso stare col culo Su queste cose Sono troppo sottili Ma non si appende Mi appendo Faccio Adesso sto fermo Faccio girare il martello E mi appendo lì No Cristo Niente Niente Io non riesco a far Sì Sì No 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 No